un attimo ho sbagliato io faccio la 32, 33 cioè se ci registra via su, 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 su 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 un po' con il gannino dammi le mani a me bravo, un coraggio regolare un ultimo giro ragazzi un ultimo giro un raffidato in ordine dalla me dalla me da 10 guadagnino bravo, un giro bravo, così via portale, portale 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 Grazie, arrivo per tutti. Grazie, arrivo per tutti. Ancora l'ultimo giro. Grazie. 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 Grazie.